ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario pupibost informazioni commerciali titolare orse lsrl concessionario orse lsrl confezioni pupibost os pasta in siringa formulazione trigliceridi acidi grassi essenziali glucosio colostro batteri produttori di acido lattico vit a vit di vit b1 vit b2 vit b6 vit b12 vit pp vit c estratti vegetali cola guaranda ferro nella forma di solfato aromi sweet taste indicazioni a una pasta orale studiata per fornire energia e colostro ai cuccioli nati sotto peso comunque deboli posologia cani 2 ml 2 gradazioni e ripetere cinque ore dopo altri cuccioli 1 ml 1 gradazione appena possibile dopo la nascita e ripetere cinque ore dopo ripetere il secondo giorno di vita fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato